Definiti i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari. È quanto contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica numero 59 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 giugno scorso, con il quale viene data attuazione alle norme di recepimento della direttiva comunitaria in materia di efficienza energetica, consentendone l'applicazione immediata. Il Ministro dello Sviluppo Economico, Claudio Scaiola, ha dichiarato Con questo provvedimento rendiamo concrete le possibilità di risparmio per tutti coloro che sostituiscono o installano un nuovo impianto termico o realizzano l'isolamento termico del proprio edificio.